Ciao a tutti, facciamo un breve e semplice riassunto del Messico, però ricco di immagini, video e curiosità. Il Messico si trova in America centrale, confina a nord con gli Stati Uniti. È bagnato da due oceani, a ovest l'oceano Pacifico, a est invece l'oceano Atlantico. A sud invece confina con il Guatemala e il Belize. La capitale è città del Messico, che si trova in questa posizione centrale. Ha una popolazione di circa 9 milioni di abitanti, ma se consideriamo tutta l'area urbana, quindi anche la periferia, arriviamo a 30 milioni, quindi una delle più grandi mecalopoli del mondo. Altre città importanti sono Acapulco e Cancun, famose soprattutto per il turismo balneare. Poi abbiamo città storiche come Guadalajara e Puebla. Nelle regioni interne invece abbiamo Monterrey e città del Messico. Il Messico è uno degli stati più grandi al mondo, occupa la 14esima posizione. Come vedete ha una bandiera molto simile a quella italiana, distinta però dalla presenza di questo stemma centrale, con un'aquela che azzanna un serpente sopra un cactus. E ha una popolazione totale di 120 milioni di abitanti, con diverse etnie. 20% sono di origine indios, 15% bianchi creoli. I creoli, vi ricordo, sono di origine spagnola o europea. La maggioranza però è costituita dai medici, quindi da una mescolanza di queste varie etnie. Per quanto riguarda la forma di governo, è una repubblica federale, con ben 31 stati, più il distretto della capitale, città del Messico. La moneta, il peso messicano, la lingua ufficiale, lo spagnolo, più altri idiomi locali. Per quanto riguarda la regione invece sono in maggioranza cattolica. Il territorio è prevalentemente montuoso, come si vede anche dalla cartina, con questo vastissimo altopiano che supera i mille metri e che si chiama la Mesa. Per quanto riguarda i monti abbiamo la Sierra Madre, che si divide in Sierra Madre occidentale, orientale e del sud. E proprio qui troviamo anche le vette più alte, come il Pico de Orizaba e Popocatepeti, questi nomi simpatici, che però soprano i 5.000 metri. E sono entrambi dei vulcani, infatti tutto il Messico è una zona ad alto rischio sismico, con vulcani, terremoti. Tra i fiumi da ricordare è il Rio Grande, lungo più di 3.000 km, che segna il confine con gli Stati Uniti. Mentre a sud abbiamo l'Usumacinta, più breve, 560 km, che segna il confine con il Guatemala. Abbiamo due grandi penisole, quella della California al nord e quella dello Yucatan al sud, che è anche una zona molto pianeggiante. Mentre tra i deserti da ricordare è quello di Sonora al nord, a confine con gli Stati Uniti. Infine, da ricordare il Golfo del Messico, da cui nasce l'importantissima corrente del Golfo, una corrente d'acqua calda che arriva fino alle coste del nord Europa e che ne mitica il clima. Il Messico è attraversato dal Tropico del Cancro, però per quanto riguarda il clima, questo cambia soprattutto in base all'altitudine, per cui possiamo avere un clima tropicale lungo le coste, continentale nell'interno, alpino invece sopra i 3.000 metri. In spagnolo le chiameremo Tierras Calientes fino ai 1.000 metri, Templadas fino ai 2.000, Frias tra i 2.000 e 3.000 metri e Ladas sopra i 3.000 metri, con nevi e ghiacci perenni. Per quanto riguarda l'economia, il Messico è in via di sviluppo, con un PIL pro capite di circa 9.000 dollari l'anno. In Italia si aggira intorno ai 30.000, però ci sono grandi disparità tra i ricchi e i poveri. Nel settore primario il Messico è un grande produttore di mais, è il quarto al mondo, ma anche di fagioli, frumento, riso, frutta e le classiche piantagioni di caffè, cacao, banane, cotone ed altre. Nel settore secondario è sviluppata l'industria automobilistica, meccanica, del legno, del tabacco e il Messico è anche ricco di risorse naturali, come il gas, il petrolio, il piombo, ma anche oro e argento. Nel settore terziario invece è molto molto importante il turismo, quello balneare ad Acapulco e Cancun che abbiamo visto prima, ma anche quello storico e archeologico. Famosissime in tutto il mondo sono le piramidi a gradoni di Maya e Aztechi. Qui vediamo la piramide di Cicenizza, che è anche una delle sette meraviglie del mondo moderno e si trovano in maggioranza nella penisola dello Yucatan qui. Originariamente infatti queste regioni erano abitate dai Maya e dagli Aztechi, però nel 1500 arrivarono i conquistadores spagnoli, ricordiamo ad esempio Cortes, che sottomisero tutta questa vasta regione. Per cui per diversi secoli abbiamo avuto il dominio spagnolo, poi nel 1821 il Messico è diventato indipendente dalla Spagna. Tra i maggiori problemi che riguardano il Messico abbiamo la povertà, questa disparità tra ricchi e poveri. Vi ricordo infatti che le piantagioni, ma anche le risorse naturali, spesso sono in mano alle grandi multinazionali straniere. E tutto questo ovviamente determina una forte immigrazione, soprattutto verso gli Stati Uniti, a volte anche con metodi illegali. L'altro grande problema riguarda la criminalità con i cartelli della droga, ovvero i narcotrafficanti. Infine, tra i simboli, tra le cose famose del Messico, ne troviamo tante. Innanzitutto il sombrero, che è questo tipico cappello messicano. Ma anche la musica mariachi, con questi gruppi di musicisti che suonano musiche tradizionali, con chitarra, trombe, sonagli. Un esempio è proprio la musica in sottofondo. Ma soprattutto cibi e bevande, con la tequila, che è la tipica bevanda alcolica. Poi abbiamo la zuppa di fagioli con carne, il chili, i burritos, che sono questa specie di kebab con riso, fagioli e carne. Poi abbiamo i nachos, i tacos e tantissime altre cose buonissime.